bella questa è bella però doveva riuscire ad attaccare invece questa è una porcata questa è colpa di santoni perché è uscito a 12 metri lui non ha saltato cosa serve solo perché vuoi la palla fancy dei vecchio eh e va bene no no ancora ora figa rody tirina anche più bassa chiamatemi la palla per bravo tieto piccola piccola cambia battitore guardiamo non c'è neanche lo spazio del campo per attaccare la palla lì perfezione assoluta per frosio ops andiamo le gambe si vede devi ammortizzare vai in alto a forza e fa tra il visivo non c'è non c'è non c'è non c'è troppo fino guarda non c'è non c'è 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 Sì, è l'esercizio. grazie 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 scusami molto meglio guardi che il difeso non sta mai dentro si sente davanti e si sente buono questo scusami 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 Grazie. Grazie. Grazie.